Il comune di Castellabate presto avrà un centro vaccinale nella palestra delle scuole medie dell'Istituto Comprensivo di Santa Maria, seguendo tutte le direttive dell'ASL. Quando tutto sarà pronto ad assistere i pazienti, ci sarà la protezione civile Gruppo Lucano. Per quanto riguarda invece l'Organizzazione Generale delle Vaccinazioni, sarà direttamente l'ASL ad occuparsene. Lo scopo del punto vaccinale è quello di velocizzare quanto più è possibile le attività di vaccinazioni posto in essere dall'ASL. Ovviamente saranno seguiti tutti gli step di vaccinazione che di volta in volta verranno aperti sul portale della Regione Campania. Lo scopo, oltre ad essere quello di velocizzare le somministrazioni, darà soprattutto un vantaggio ai cittadini di Castellabate che non dovranno recarsi in altre sedi per fare il vaccino. Infine, i lavori per l'allestimento sono stati eseguiti in brevissimo tempo e molto probabilmente già dalla metà della settimana prossima il punto vaccinale sarà aperto e attivo per somministrare le prime dosi.